Sì, guardate, queste immagini lo testimoniano, tutto comincia da qui. Molto spesso partono i dibattiti, le polemiche e si perde il punto di partenza, l'obiettivo. L'obiettivo è una città che per stare nel mondo competitivo del turismo e per ridare ai cittadini riminesi qualità della vita deve avere il coraggio di riprendersi gli spazi, di farli vivere nella loro bellezza. Allora tutto parte da qua. Qui c'è uno dei più grandi cantieri italiani ed europei che lavora sulla bellezza, l'arte e la cultura. Si dice che l'Italia ha il petrolio della bellezza, dell'arte e della cultura e poi attorno a queste magnificenze, a questi giacimenti di bellezza, un castello del Rinascimento, un teatro verdiano, il ponte di Tiberio, noi lasciamo le lamiere, le auto, il degrado e l'asfalto. Quasi c'è stato un disegno in Italia negli ultimi 70 anni, quasi che a ogni punto di bellezza si doveva costruire un parcheggio ammassato sotto. Allora il punto di partenza è un'idea di città. Noi spostiamo la mobilità sulla Statale 16 e sull'asse urbano di Via Roma con 17 interventi fila dritto per liberare il centro storico e le sue bellezze. Il punto di partenza è questo, un teatro che dopo 70 anni riparte. A Rimini è 70 anni che parliamo del teatro e 40 anni che parliamo dello spostamento del mercato ambulante. Però si parla, scoppia la polemica, poi si difendono le rendite di posizione. E oggi noi, come dire, abbiamo dato forza a questo dibattito e lo concludiamo. Perché il teatro si aprirà sul retro, lo vedete, c'è un cantiere dove c'era la palestra, si aprirà un palcoscenico verso la Rocca e tra la Rocca e il teatro ci sarà una grande arena delle arti. Riprenderemo il fossato, con gli scavi archeologici emergerà una Rimini antica. Vedremo e valuteremo anche la consistenza del fossato. Un quadrante fatto dal castello. Il teatro di fianco c'è la Casa del Cinema di Fellini, che ci auguriamo di aprire nel marzo 2016. Questo teatro potrà finire a fine 2016, questo castello potrà e dovrà diventare il nuovo grande museo di eccellenza, il nostro Guggenheim, riempito di attrazioni che possono attirare visitatori e l'altro punto del quadrato è l'arena sull'acqua del Ponte di Tiberio. Ridare dignità agli spazi, ai luoghi per ridonarli ai cittadini, ai riminesi e avere l'obiettivo di attirare 300.000-700.000 visitatori in più all'anno. La mia macchina parcheggiata qui sotto non attira nessuno. Da nessuna parte del mondo. Questo vuol dire economia e vuol dire lavoro. Bisogna avere forza, coraggio. Tre ragazzi l'altra settimana, commercianti del centro storico di Rimini, hanno fatto la Rimini Shopping Night. 30.000 persone hanno preso d'assalto il centro storico e l'hanno vissuto perché il centro storico sta rinascendo. L'anello delle nuove piazze, andate a vedere Sant'Agostino, il 300 riminese, la bellezza delle nostre chiese, Santa Rita, San Bernardino. Lì dove c'erano macchine oggi ci sono persone e bellezza. La bellezza dei luoghi attira persone. Le persone fanno vivere i negozi. E' questa l'idea. Dentro questo disegno c'è lo spostamento del mercato ambulante. Guardate, boba, polemiche. E' anche carina l'opposizione che si mette le canottiere, le pinne, gli occhiali, i salvagenti. Però dopo quattro anni l'opposizione a Rimini è in grado di mettersi le paperelle. Non c'è un progetto alternativo. C'è una parte dell'opposizione che vorrebbe prendere e spostare il mercato ambulante al di là della via Roma, al Settebello, su un'area che non è del comune ma di ferrovia, quindi impossibile. C'è una parte dell'opposizione che dice ma un po' va bene così. C'è una parte dell'opposizione che vorrebbe portare il mercato ambulante a San Giuliano. Per il mercato ambulante servono 30.000, 29.000 metri quadrati. Lì ce ne sono 5.000. Alla fine rimane il salvagente, le paperelle dell'opposizione che dice no, no e poi però non c'è mai un progetto, una proposta. Oggi le istituzioni e la politica in senso buono si ridanno anche un po' di dignità. Perché dopo 70 anni e dopo 40 anni questa città muove con coraggio per ridare a se stessa la bellezza di Piero della Francesca, di Sigismondo. Questo teatro è stato inaugurato da Verdi, lì ce Fellini, là parte la via Emilia. Un motore di bellezza che attirerà 300-700.000 visitatori all'anno. Dentro questo progetto lo spostamento del mercato. E guardate, noi facciamo come i tedeschi. Prima di spostare costruiamo le rotatorie sulla via Roma. Ci sarà la nuova rotatoria Tripoli-Roma che seguirà quella dell'anfiteatro e quella della stazione. Si passerà in Parco Cervi con un sovrappasso. Dal Parco Cervi potrà andare giù al mare, quindi non ci sarà più l'interruzione per chi va in bicicletta. C'è un sistema di parcheggi nella nuova area mercatale di 1.070 posti auto anziché 750. Abbiamo spostato le linee dell'autobus. Gli anziani, chi non può muoversi da solo, potrà prendere una delle 23 linee di autobus che arrivano in bocca al nuovo mercato. Il nuovo mercato ha anche Via Dante. Via Dante è l'imbocco della stazione dove arrivano 5 milioni di passeggeri. Quindi un mercato ambulante che avrà... È chiaro che l'abitudine cambiata scuote, non sai, hai paura del nuovo. Ma in fondo, come dire, le nuove opportunità daranno più forza anche al mercato ambulante che si unirà al mercato coperto. Farremo concorrenza all'iper. Probabilmente le Befane si dovranno preoccupare perché 400 negozi del centro insieme al mercato coperto insieme ai 400 proposte del mercato ambulante saranno un iper naturale commerciale. E questo è un insieme, un'idea. Ci saranno problemi, problematicità, ma come adesso? Il mercato oggi non ha problemi. Quando c'è il mercato non si intasa la circonvaluazione occidentale, non si passa bene. È anche, come dire, il sapore delle città italiane avere un mercato in centro. Noi abbiamo voluto il mercato in centro e riqualificare la città. Quali saranno i tempi di sindaco? I tempi sono... beh, i tempi dei cantieri sono cantieri avviati. Fulgor 2016, Teatro fine 2016, Castello siamo in procinto di avviare un'operazione sul museo, il Tiberio è già partito e per lo spostamento del mercato c'è tutto un ITER che avrà, come dire, qualche mese davanti di assegnazione dei posti, degli stalli, di trasferimento. Quindi noi ci auguriamo che entro settembre-ottobre tutto l'ITER possa essere completato. Grazie per la visione!